Stravince Lamartelli nella sfida di Juniors Provinciali Girone B contro il Pescarolo. A Piadena Drezona l'iniziale possesso pala proprio del Pescarolo viene spezzato dopo il rigore sbagliato da Lamartelli da parte di Castoldi. Il giocatore di casa però si riscatta con una rete in pallonetto dopo un contropiede nato su una prima occasione da gol del Pescarolo originato a sua volta da un calcio d'angolo. Più ricco di emozioni il secondo tempo rispetto al primo si assiste al palo di Fantini della Martelli e a seguire un'altra grande occasione per la squadra di casa. Il raddoppio dei piadenesi arriva su un altro rigore calciato questa volta direttamente in porta da Norelli. Il terzo gol di testa porta la firma di Odelanti su azione da calcio d'angolo. Si ripete poi Norelli per il gol del 4-0 e la personale doppietta. Il Pescarolo conclude con i suoi tentativi per il gol della bandiera fermandosi però a una traversa centrata.